Ma a me è migrato perché c'ho uno stanzo con il gioco d'ammarte. Ma hai visto il stanzo? Se ce l'hai tu no? Siamo sul Same 265. Macchina. Attenzione. Slusori. 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 Grazie a tutti. Io sono lontano di qui. Sto verso Perignano con un sacco per capire. Sì, ho capito. Mi vuoi stare una volta a fare una prova? Sì, ho capito. 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 Sì. 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 Sì.